Il metallo fluido è una delle decorazioni di superfici ultramateriali. Il metallo fluido è basato su una razza di uno a uno tra l'eco-mono e le poudre metallo che sono inseriti dentro la finita. È possibile applicare il metallo fluido su alcuni supporti di mdf. Il metallo fluido sulle superfici continui, i cimenti, i resini e i diversi tipi di superfici che possono essere trovati in effetti architetturali. Qui ci sono alcuni esempi. Geotex è un fabbrica di fibra che in origine è in colore bianco, ma è possibile customizzare con gli ultramateriali colori e decorazioni. E' possibile avere effetti metallici, effetti cloudi, effetti solidi colori, utilizzando il nostro eco-bico e il nostro eco-pur con le funzioni di ionizzazione e di purificazione. di piacciono immigrat горion vegetal peraufare avere新-feature. Passiamo avuto un po Kraje di ahlo suongente. Passiamo bleeding anche la r I-quillo della SSD. Modula è un pannello molto bassa che offre alcune soluzioni decorative. Può essere usato sia per la collezione e per la costruzione di fiori, fiori e accessori. Può essere decorato con le texture ultramaterie o proteggerlo con l'ecopur, la nostra rionizzazione che crea una barriera reale contro i patogeni, i germi e le bacterie. Grazie per la visione!